Cari amiche, cari amici, buonasera e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni. Questa sera abbiamo il piacere di avere come nostro ospite Franco Chittolina, che è il presidente dell'Associazione Apice Europa. Come tutte le settimane in studio con me c'è anche il nostro esperto di previdenza, Giorgio Melelli, per rispondere alle vostre telefonate da casa. Il numero è sempre lo stesso, 011 95 75 798. Abbiamo invitato il nostro ospite perché proprio sabato si sono celebrati i 60 anni dei trattati di Roma, ovvero quei trattati che hanno dato inizio, se così vogliamo dire, all'Unione Europea come noi oggi la conosciamo. Vorrei quindi subito chiedere a Franco Chittolina di darci un suo commento su quello che è successo sabato e qual è il suo parere sulla situazione attuale dell'Europa. Allora sabato io credo sia succeduto quello che poteva succedere, cioè una intesa un po' acrobatica tra i paesi che vogliono andare avanti, quelli che stanno frenando, uno dei frenatori già non c'era, la Gran Bretagna, e questo tutto sommato può aiutare. In questa Europa che ha formato negli anni un convoglio molto lungo di 28, adesso 27 paesi e che vede che alcuni dei suoi vagoni frenano disperatamente, mentre altri vorrebbero avanzare e l'Europa è sotto una tensione che ha trovato un punto di equilibrio sabato in una dichiarazione, ripeto, molto acrobatica, ma nella quale viene comunque detto con chiarezza che d'ora in poi, la frase va citata integralmente, da adesso in avanti procediamo insieme ad intensità diverse nella stessa direzione. Ecco, che cosa vuol dire questo? A saperlo, a saperlo, perché evidentemente è un punto di equilibrio tra un compromesso che dovrebbe liberare alcuni paesi, io direi essenzialmente i sei paesi fondatori e un buon numero, io spero, dei paesi dell'Eurozona che hanno adottato l'Euro, e che avendo adottato l'Euro hanno già delegato molta parte della loro sovranità a livello comunitario. Questi paesi attraverso uno strumento che esiste in questi trattati, quindi i trattati non vanno cambiati per il momento, sarà bene poi cambiarli più avanti, vorrei attirare l'attenzione sulle parole del Presidente Mattarella, che ha però chiesto che si apra una fase costituente per il futuro dell'Europa. Adesso nei prossimi dieci anni faremo con quello che abbiamo e cercheremo di, su alcuni settori, la difesa, forse qualcosa nel fisco, l'immigrazione, cercheremo di andare avanti con quelli che ci stanno. Con l'attuale, ok. Quindi è un'Europa sotto tensione, molto frastagliata, alla vigilia di un evento importante domani, che è... Sì, esatto, domani è il 29 marzo. Domani è il 29 marzo, abbiamo giusto avuto il tempo di festeggiare i 60 anni dell'Unione Europea e domani ci arriva una letteraccia dalla Gran Bretagna che ci dice io esco dall'Unione Europea. Ecco, che cosa comporta la Brexit? Ma la Brexit ad oggi ha comportato sicuramente molti problemi per la Gran Bretagna e non ancora per noi. Per la Gran Bretagna perché questa decisione peraltro azzardata di fare un referendum e poi di gestirlo con durezza da parte del governo di Theresa May ha dato l'occasione per esempio alla Scozia di ritornare sulla sua rivendicazione tradizionale di indipendenza. Quindi noi rischiamo di assistere alla Gran Bretagna che esce dall'Unione e alla Scozia che esce dalla Gran Bretagna per rimanere o restare e rientrare nell'Unione. Una situazione molto complicata che potrebbe portarsi dietro malumori e qualcosa di simile per esempio da parte anche del Galles, da parte dell'Irlanda del Nord e questo per quanto riguarda l'oltremanica ma potrebbe portarsi dietro delle voglie simili sul continente e tutti pensano alla Catalogna. Certo, rispetto alla Spagna. E quindi in un'Europa che è già molto frammentata il rischio è che questa frammentazione possa crescere. A Roma i 27 hanno dato una prova di compattezza. Anche i due paesi che erano un po' ostili a questa dichiarazione la Grecia per gli aspetti sociali e la Polonia per qualcosa di simile ma in senso opposto e l'immigrazione in particolare hanno firmato. non facciamoci illusioni, faranno di tutto, in particolare la Polonia per continuare a frenare lo sviluppo dell'integrazione europea. Va bene, su questo ci interrompiamo un attimo perché abbiamo in linea la prima telefonata di questa sera e poi riprendiamo. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Da Torino. Prego, ci dica. Allora, volevo fare una domanda al signor Menelli. Prego. Buonasera. Buonasera. Allora, dunque, volevo chiedere qualche informazione in più sul fondo casalinghe per il recupero contributi silenti per la pensione di anzianità. Mi sorrido perché purtroppo è una di quelle situazioni che non ne veniamo a capo. perché CGL e Cisleui, la suo tempo, avevano fatto richiesta al Ministero di autorizzare la Previdenza a tirar fuori tutte le posizioni silenti. Cosa vuol dire? Vuol dire quelle posizioni per le quali non c'è il minimale per la pensione. Per cui, per recuperare il valore del contributo, non c'è niente da fare. Chi non ha i 15 anni di contributi al 92, li ha persi tutti. Perché io ho un documento dove dice che può essere compresa un'età tra i 16 e i 65 anni. L'importante è che una non lavora, il casalinga... No, aspetti, aspetti. Quello era, c'era una tessera fatta a Fisarmonica dove il cittadino metteva dei bollini e poi li versava all'Inps. Ma parliamo degli anni 60-70, eh? Sono quelli che lei ha... Ah. Sono quelli... Sì, mia moglie praticamente ha 7 anni fino all'80. Eh, esatto. Per cui ha messo quei francobolli lì. Però, non avendo la minima, credo che non gli dirino niente. Ma la moglie... No, praticamente, questi anni sono lavorativi però, eh. No, ma non arriva ai 15 anni al 92. Eh, questo è il problema. Sì, non si può fare un versamento mensile. Quanti anni ha sua moglie? 60. Il problema è questo. Potrebbe darsi, però vado per intuito, che all'età dei 65 anni, non quelli che ha lavorato, ma quelli che ha versato, potrebbe anche darsi che una piccola pensioncina gli venga riconosciuta. Però io non le ho mai fatte e non le ho mai viste. Vado io per intuito, per un po' di esperienza che ho, tutto lì. Ho capito. Per cui mi rifaccia la domanda al 65esimo anno di età. E vediamo. Oggi come oggi, devo dirgli di no. Ho capito. Va bene, la ringraziamo e la salutiamo. Buonasera. Abbiamo ancora un'altra telefonata in linea. Pronto? Buonasera, signor Melelli. Buonasera, signora. Ci dica, prego. Telefono da Torino. Sì. Volevo fare una domanda, se è possibile, sull'app social. Sì. Volevo dire, io ho un'invalidità del 75%. Sì. Posso fare una domanda per l'app social? Allora, il problema è questo. Le domande, ne parlavo prima con Stefania, le domande si fanno. Ok? Sì. Perché sarà poi la Previdenza che ci dice se ne abbiamo diritto o no. la legge dice che chi è invalida ha il 74% ha diritto a rientrare nell'app social, però deve avere o 41 anni di contributi se è precoce, se ha lavorato prima dei 19 anni, oppure se è disoccupata. lei com'è? Cos'è? No, no, io ho 37 anni di contributi e lavoro nella scuola. Sì. Secondo me, sì. Però il problema è questo. E il numero di contributi però? No, c'è, perché sono 36. Sono 36. Ah, 36. Visto che siamo tutti in attesa delle circolari che non sono ancora uscite, io martedì prossimo che farò la trasmissione da solo, se ci sono le circolari ve le spiego e allora vedremo se quelli della scuola che hanno l'invalidità, che hanno il numero dei contributi possono chiedere la pensione. Questo oggi come oggi non so dirglielo. Ci seguo a martedì prossimo. Va benissimo. Va bene. Vi ringrazio molto. Grazie signora. Buonasera. Buonasera. Ecco, ritorniamo allora al vertice di sabato. Accanto a quello politico, se così lo vogliamo definire, c'è stato anche quello delle parti sociali e anche la CISL ha presentato un manifesto per l'Europa in 10 punti e insomma, quindi c'è anche l'impegno della società civile per la tenuta dell'Europa. Sì, credo che la società civile da lungo tempo si sta impegnando per la difesa dell'Europa con un argomento che mi sembra decisivo e che forse andrebbe anche usato di più, che un'Europa sociale è garanzia di un'Europa economica che funziona e di una democrazia che funziona. Io vorrei attirare l'attenzione senza essere troppo pessimista sui rischi che stanno correndo le nostre democrazie in Europa. Non penso soltanto a che cosa potrebbe capitare, spero di no e credo di no, in Francia fra un mese. Ma una serie di inquinamenti della democrazia, pensiamo le fake news, pensiamo alle notizie taroccate che stanno alterando la percezione proprio. Esatto, quindi stiamo molto attenti perché la democrazia può liquefarsi molto facilmente e un'Europa sociale è garanzia di democrazia perché è garanzia di partecipazione. C'è un problema, c'è un problema evidente che il nostro collega conosce benissimo ed è che le politiche sociali e il welfare non sono una competenza dell'Unione Europea ma devono permettere equilibri nell'Unione Europea e l'Unione Europea da questo punto di vista è molto squilibrata con paesi che hanno sistemi di welfare molto diversi e dove l'Italia per parlare del nostro paese ha una situazione che deve difendere è molto bello dire e l'ho sentito dire molte volte quando ero a Bruxelles da parte della Confederazione Europea dei Sindacati dobbiamo uniformare i sistemi di sicurezza sociale attenzione attenzione perché con i tempi che corrono il rischio è di uniformarli al ribasso non mantenendo i diritti acquisiti quindi bisogna procedere con molta saggezza in progressione non siamo ancora lì però la pressione sull'Europa sociale va mantenuta e io credo si debba riconoscere a questo governo più che non ad altri a questo governo una maggiore attenzione alle parti sociali e alla richiesta di inserire nelle priorità future l'Europa sociale questo credo che sia giusto riconoscerglielo poi speriamo che non molli su questa rivendicazione va bene la settimana scorsa purtroppo c'è stato anche un brutto episodio ovvero l'attentato a Londra proprio vicino alla sede del Parlamento questi fenomeni di terrorismo che purtroppo si ripetono proprio negli stessi giorni l'anno prima c'era stato un attentato all'aeroporto di Bruxelles come si rispecchiano sulla sull'Europa anche qui sulla tenuta dell'Europa e sulla questione fra Europa e terrorismo sicuramente impauriscono l'Europa credo che vada detto la paura peraltro non è il contrario del coraggio è la premessa per avere coraggio perché senza paura c'è incoscienza e noi in questo momento dobbiamo vigilare molto attentamente direi che se dovessi fare un commento a quello che è capitato a Londra direi che mi è ispirato contemporaneamente tristezza per le vittime che ci sono state ma anche la speranza che questo aiuti questo grande paese che è la culla della democrazia europea a condurre la sua procedura di divorzio lo sappiamo le procedure di divorzio sono sempre dolorose costose a condurle senza ostilità verso l'Unione Europea e quindi è il momento anche da parte dell'Unione Europea degli altri 27 di ricambiare in termini di solidarietà non è perché stanno uscendo dall'Unione che noi non dovremmo sostenere la medesima lotta con loro scambiando l'intelligence scambiando una serie di azioni comuni questo deve rimanere perché la Gran Bretagna esce dall'Unione Europea non esce dall'Europa quindi rimane un paese fratello col quale abbiamo qualche litigio in corso ma insomma non è il caso di fare le guerre in casa nostra ecco come diceva prima sicuramente una conseguenza di questa paura che è diffusa proprio dagli atti di terrorismo è diciamo una maggiore adesione ai partiti nazionalisti lo vediamo appunto in molti paesi sì io proporrei per fare così chiarezza chiamiamo questi movimenti nazionalpopulisti nazionalpopulisti perché si appellano al popolo impaurito populisti per questa ragione nazionali perché ripropongono il tema esasperato della sovranità nazionale il nostro Luigi Inaudi che non era politico di estrema sinistra io vengo da quelle parti era un langarolo di buon senso un liberale intelligente Luigi Inaudi il 28 dicembre del 1918 all'indomani della fine della prima guerra mondiale scrisse sul Corriere della Sera un lungo articolo in cui invitava i popoli europei gli stati europei a firmare degli accordi comuni sarebbero poi nate una serie di intese dicendo loro di resistere assolutamente al dogma della sovranità perché il dogma della sovranità è l'origine delle guerre allora questa parola guerra in Europa io credo che in questo momento bisogna avere il coraggio di dirla non perché sia un rischio imminente ma perché è un pericolo possibile perché quando si alzano le frontiere quando si alzano i reticolati torna quel clima ostile tra i paesi e speriamo non accada assolutamente abbiamo in linea un'altra telefonata sentiamo pronto pronto buonasera volevo parlare con il signore della pensione sì prego buonasera signora buonasera io vorrei sapere quando andrò in pensione quando andrò in pensione non si può dare una risposta in televisione su quando andrò in pensione perché io sono la classe del 52 no ma lei ha i 20 anni di contributi sì sì dovrebbe già andare quando ho compiuto i 64 anni a dicembre allora va dal primo di agosto perché 64 più 7 mesi e quando devo fare la domanda dopo Pasqua per cui nel mese di maggio lei va al patronato e dice io devo andare in pensione al primo di agosto devo fare la domanda è capito ma è sicuro certo è sicuro la legge è questa certo la legge è la deroga alla famigerata legge Fornero è capito che vi ha messo una mano in testa e ha detto quelle del 52 almeno le salviamo un paio d'anni di pensione va bene allora è sicuro sicuro volevo sapere un'altra cosa prego signora mia sorella ha i del 54 non va che età può andare oggi 66 e 7 mesi va bene ok va bene la ringrazio buonasera arrivederci signora grazie a lei signora buonasera abbiamo subito un'altra telefonata in linea sentiamo pronto buonasera io volevo sapere per conto di mia moglie che non c'è perché è nata il 15-7 del 53 si ed ha maturato i 16 anni di contributi prima del 91 si per cui con la vecchia legge avrebbe avuto diritto alla pensione minima si all'età adesso ne ha diritto ma deve aspettare arrivare a 66 anni e 7 mesi perché c'è solo quella del 52 gli altri si la deroga è solo per le cittadine lavoratrici del 52 va benissimo ma va bene ma detto a 66 anni e 7 mesi attenzione primo gennaio 2018 questi 7 mesi che è l'aspettativa di vita potrebbero aumentare per cui io le do il dato il dato odierno quello che succederà nel 2018 lo vedremo possono fare anche una deroga per quelli del 53 no questo lo escludo al mille per mille non è prevista no non è prevista allora ecco solo per quando arrivere dico mi ha detto ha 66 anni va benissimo ci sentiamo ancora abbiamo tempo abbiamo tempo speriamo arrivederci grazie buonasera buonasera abbiamo ancora un'altra telefonata sentiamo pronto ah no ok va bene vediamo dopo allora ecco abbiamo già in Europa insomma nell'ultimo periodo delle votazioni che sono andate in porto diciamo così un caso è appunto quello dell'Olanda in attesa invece di vedere poi che cosa succederà in Francia e in Germania però qual è l'idea che ci possiamo fare a questo punto allora quest'anno il caso vuole che abbiamo di fila tre teste elettorali molto importanti perché chiamano in ballo tre paesi importanti anche se di dimensioni molto diverse perché sono tre paesi fondatori dell'Unione Europea abbiamo cominciato qualche settimana fa due settimane fa con l'Olanda proseguiremo fra un mese con la Francia e in inizio autunno con la Germania allora conosciamo l'esito delle elezioni olandesi allora qui le valutazioni come sempre alla fine di votazioni naturalmente hanno vinto tutti e nessuno che abbia perso mettiamola così per semplificare che in Olanda il voto non ha scatenato quella marea di consensi per la destra eurofobica xenofoba di Gerd Wilders però cosa che non è stata sufficientemente messa in evidenza ha vinto comunque cinque seggi in più non ha quindi avuto quel successo temuto ma insomma non ha dilagato non ha dilagato ma ha guadagnato e il suo avversario diretto il partito liberale di Rutte l'attuale capo del governo ha perso dieci seggi quindi detto questo bisognerebbe raccontare il sistema proporzionale una cosa noiosissima non la faccio diciamo che se si vuole calcolare in altro modo si può dire che sette ottavi degli elettori olandesi hanno votato per una sfilza infinita di partiti perché il sistema proporzionale che Dio ci scampi in Italia possibilmente crea queste situazioni dove il sette ottavi sette su otto sono degli europeisti tiepidi entusiasti però i partiti che contano si affrontano ancora in modo direi rischioso questo è l'Olanda fra un mese è il turno è il primo turno della Francia dove non è difficile prevedere che nella contesa che darà due due candidati al ballottaggio che verrà poi il 7 maggio sì una dei due candidati è una donna si chiama Marine Le Pen estrema destra del Front National che vuole uscire dall'Euro vuole uscire dall'Unione vuole uscire dalla Nato nessuno ha capito bene dove voglia andare l'altro giorno è andata a trovare Putin che non è proprio un biglietto da visita di democrazia avanzata questa è la signora Le Pen a fronte avrà un candidato probabilmente a vedere gli ultimi sondaggi ma con i sondaggi siamo diventati tutti molto prudenti un candidato di centro-sinistra ma direi qualunque fosse il candidato che affronterà Le Pen probabilmente succederà la stessa cosa che è capitata nel 2002 quando Le Pen c'era già era il padre e tutto lo schieramento dei partiti democratici si coalizzò contro per fermarlo c'è questa cultura repubblicana a difesa dei valori della Repubblica per cui partiti tra loro ostili si coalizzano si alleano per fermare l'estrema destra diciamo che sarebbe una grande sorpresa se l'estrema destra dovesse vincere però avendo vissuto la vicenda di Trump stiamo tutti molto prudenti siamo molto più cauti siamo molto più cauti nelle previsioni diciamo solo questo che l'eventuale vittoria della signora Le Pen significherebbe la fine di questa Unione Europea su questo credo lo si possa dire tranquillamente poi magari ne nascerà un'altra per un paese fondatore che è stato anche uno degli assi portanti per lungo tempo è perché anche questo mito dell'asse franco-tedesco si è molto indebolito perché si è indebolita la Francia si è rafforzata la Germania lo squilibrio è diventato grande come diceva un nostro uomo politico che non citerò ma dalla battuta facile diceva ai tempi di Sarkozy e della Merkel diceva la Merkel decide Sarkozy fa le conferenze stampa e dava l'idea di quanto contasse questo per quanto riguarda la Francia rischio alto qualche brivido speriamo vada bene la Germania ecco la Germania possiamo stare più tranquilli perché si contenderanno il cancellierato due politici di fede europeista più mitigata quella di Angela Merkel l'abbiamo già sperimentata e quella più direi più più vigorosa di Martin Schulz che sta crescendo nei sondaggi è stato presidente a lungo del Parlamento Europeo e quindi lì siamo più tranquilli si tratterà di vedere che cosa il partito euroscettico anti-euro potrà fare ma farà 10% forse però lì non scappano devono fare la grande coalizione ma certo ma dipende chi guida la grande coalizione dipenderà chi la guida certo oggi se tu conosci i rapporti all'interno della grande coalizione i socialdemocratici cosa contano? ad oggi si sono solo logorati e hanno contato pochissimo con Schulz alla testa della cancelleria se mai ci arrivasse evidentemente conteranno di più dipende anche come si comporteranno il partito ecologista evidentemente che tra l'altro colgo l'occasione per riparare ad una dimenticanza in Olanda è stato il vero vincitore il vero vincitore i verdi e ci siamo dimenticati il loro dato è stato veramente molto importante noi speriamo per rispondere collettivamente alle domande che dopo questi test elettorali finalmente l'Europa è una barca che sta galleggiando come può tanto non va a fondo è già una bella notizia si disincagli e possa prendere un po' il largo con la guida direi inevitabile della Germania che è un paese leader per una serie di ragioni non so avete in mente lo dico così per alleggerire il clima se no è troppo serioso avete in mente il libro La fattoria degli animali dove in questa fattoria gli animali si danno una loro gerarchia ed è la parabola della politica vuole il caso che a comandare siano i maiali ma questa è una cattiveria di Orwell dove a un certo punto Orwell dice che siamo tutti uguali ma qualcuno è più uguale degli altri ecco la Germania siamo tutti uguali è un po' più uguale di noi nel senso che ha una leadership prima della telefonata in Italia che Dio ci protegga perché qui ci sono tanti no la battuta è un po' irriverente ma sta a ricordare che abbiamo un sistema elettorale scassato che non darà una maggioranza possibile quindi non darà una governabilità a questo paese e purtroppo non si sente più parlare di riforma della legge elettorale no quindi siamo in una situazione molto precaria direi molto precaria perché anche noi la Lega non disdegna posso dire battute feroci rispetto all'Europa eccetera eccetera certo e non soltanto la Lega mi pare non soltanto sarebbe interessante ma giuro non lo faccio sarebbe sadico in questo momento la proposta dell'altro ieri della moneta virtuale da parte dei 5 stelle è delirio puro però sembra avere un ascolto nessuno ha capito cosa sia la moneta virtuale non so io non credo che tu ti capitasse di dover vendere qualcosa ti fai pagare moneta virtuale non ci credo però sembra che con i grillini questo funzioni e quindi no l'Italia sarà bene che si dia una regolata vedremo che cosa succederà intanto abbiamo un'altra telefonata in linea sentiamo pronto buonasera buonasera signora da dove ci chiama sono cara di cannobio prego ci dica una domanda velocissima velocissima ho sentito prima una signora del 52 che ha telefonato che può fare domanda per la pensione io sono del 52 ma artigiana no no niente solo i lavoratori dipendenti quelli che hanno sono la pensione costruita con i contributi da dipendente ah è un autonomo nulla mi spiace sa perché la logica è questa la logica è gli autonomi che hanno proprio il nome l'autonomia di lavoro sono meno pressati hanno meno esigenze di uscita rispetto alle dipendenti private tant'è che il 54 non è previsto neanche per i lavoratori pubblici ma solo per i lavoratori dipendenti privati questo è il concetto che la Fornero ha tirato fuori la bravissima Fornero è lei è lei va bene la ringrazio grazie signora buonasera grazie buonasera sentiamo la prossima telefonata pronto? è pronto buonasera sono Paola si ci dica prego senta io volevo fare una domanda per mio marito mio marito fa un lavoro usurante nel senso che lui è un lavoratore notturno di albergo lavora in albergo volevo sapere se poteva andare in pensione con queste come posso chiamarle lavoro usurante no allora la nuova legge i lavori notturni non li mette i lavori notturni ci sono nella vecchia legge dei lavori usuranti però bisogna andare in pensione avendo la somma tra anni e contributi di 97 quanti anni ha il suo marito? mio marito ha 58 anni e quanti contributi ha? 38 assolutamente assolutamente no e allora vado a recuperarla al cimitero cioè sostanzialmente il problema è queste lei parla della vecchia legge degli usuranti che diceva il notturno 78 notti in un anno oppure mi pare 48 notti per un anno e davano dei benefit però è la vecchia legge però bisogna avere la quota 97 mi pare 97 e mezzo roba del genere per cui il suo marito non rientra ancora quindi lui praticamente dovrà lavorare fino a 67 anni in sostanza? lui può andare in pensione tra 5 anni perché va con i 42 anni tra 5 anni con 42 anni eh sì ne ha 38 più e qui siamo a 42 10 mesi per cui 5 anni via vabbè la ringrazio dell'informazione grazie signora buonasera abbiamo ancora una telefonata pronto? pronto buonasera da dove ci chiama? sono Maria Davigliana sì prego ci dica signora sento volevo parlare con il signor Melelli buonasera buonasera volevo chiederle io sono andata in pensione a novembre di quei dell'anno scorso sì sono andata con opzione donna sì volevo chiedere ho diritto alla quattordicesima quanto prende di pensione? 770 qualcosa secondo me sì secondo me sì perché lei superava i 9600 però con la nuova legge la legge finanziaria di dicembre non bisogna superare 13.046 euro secondo me lei non li supera per cui ad agosto ma lei quanti anni ha? 58 no no non può averla no no ci vuole anche 64 anni ah 64 anni no no ecco vede ogni tanto ogni tanto mi dimentico di fare questa domanda no no perché è una sempre a tutti che superano quella cifra lì poi invece ci vanno anche gli anni ne parleremo quando lei raggiungerà i 64 anni va bene ok ok la ringrazio prego buonasera buonasera grazie signora continui a seguirci buonasera grazie ecco a proposito dei rischi che sta correndo l'Europa e di questa deriva di cui parlavamo prima lei ha scritto questo libro Faglie d'Europa Unione Europea a rischio adesso vediamo anche ecco lo stiamo inquadrando grazie alla regia qual è il contenuto principale di questo libro? ma racconta di un'Europa che si è assemblata negli anni ma non ha risolto alcune faglie alcune divisioni alcune tensioni al proprio interno e per semplificare direi ed è il senso della copertina dove c'è un tracciato sismico sì tra i vari punti cardinali tra i vari punti cardinali e allora ancora una volta per semplificare semplificare potrebbe dire si fa peccato ma qualche volta si indovina c'è una faglia che corre verticale da nord verso sud e che oppone i paesi di cultura protestante di concezione politica molto diversa dalla nostra con delle economie più severe dei conti finanziari più in ordine per semplificare e c'è un'Europa del sud di cultura cattolica che qualcosa pur vuol dire che tanto poi ci perdonano e quindi se sforiamo un po' i conti pazienza la chiamiamo flessibilità ma vabbè ognuno usa i termini che vuole e questa è la faglia verticale che rischia di spaccare l'Europa del nord da quella del sud e da quelle idee strane a qualcuno di creare i due euro l'euro forte e l'euro debole si potrebbe raccontare molto di questo ma poi c'è un'altra faglia c'è una faglia questa volta che è che che divide i paesi i vecchi paesi dell'Unione Europea diciamo ad occidenti i paesi fondatori e gli altri dai nuovi paesi che sono entrati recentemente questa faglia è profonda è profonda e potrebbe avere degli effetti sismici importanti lo vediamo con la Polonia con l'Ungheria con il gruppo di Visegrad dove oltre Polonia e Ungheria c'è la Repubblica Ceca quella slovacca che hanno un'altra concezione dell'Europa un'Europa fatta di sovranità addizionate diversamente da quella che stiamo cercando che non abbiamo fatto ancora ma che stiamo cercando di fare noi di un'Europa invece che trasferisce progressivamente parte delle sovranità nazionali verso non rinuncia alla sovranità cerca una sovranità condivisa perché sia più efficace perché intanto per quello che diceva Luigi Einaudi che la sovranità è l'origine della guerra e poi perché a me piacerebbe mi facessero il nome di un paese fosse pure anche la Germania dotato ancora di una reale sovranità nazionale in questo mondo globale sono sovranità presunte pretese sarebbe bene che ci facessimo un ragionamento tutti insieme questo è un po' il contenuto di questo libro per indicare le due faglie che mettono sotto pressione l'Europa e che speriamo non esplodano l'Europa non è che ha un destino di fatale di morte eccetera no l'Europa è una costruzione umana contano le donne e gli uomini che la fanno è vero che non è un periodo di grande abbondanza di statisti di statura se avete dei nomi da fare fateli ma insomma non ce ne sono moltissimi lei ha ricordato prima ha ricordato prima quelli che hanno firmato altre stature altre stature al punto da io penso che un giorno gli storici racconteranno che questi politici che si chiamavano Adenauer si chiamavano Spach Schumann De Gasperi erano dei visionari perché ma ditemi voi chi oggi rischia il consenso immediato per una costruzione che era ancora impopolare perché metteva insieme gente che si era scannata fino al giorno prima ma avevano questo disegno grande la storia li ha ricompensati questo periodo di disegni grandi di statisti grandi ce ne vedono pochi abbiamo ancora una telefonata in linea quindi sentiamo il nostro telespettatore pronto no ok niente niente linea ok allora vediamo invece di parlare un attimo di Apice Europa la sua associazione lei per tanti anni è stato a Bruxelles prima al Consiglio e poi alla Commissione Europea quindi una lunga esperienza di Europa e poi adesso è ritornato a casa diciamo così a Cuneo e ha messo in piedi questa associazione di che cosa vi occupate? allora siamo nati una dozzina di anni fa facciamo un lavoro molto di pedagogia minima di sensibilizzazione a noi abbiamo il coraggio anche se può sembrare un po' offensiva la chiamiamo alfabetizzazione sulle cose europee perché l'Europa è una realtà complessa molto evolutiva mentre noi stiamo chiacchierando amabilmente qui dicendo magari l'Europa non fa niente a Bruxelles stanno macinando regolamenti su regolamenti non sono sempre opportuni ma però la macchina va avanti perché è una macchina divoratrice noi cerchiamo di raccontare come funziona questa macchina le decisioni che prende critichiamo le decisioni che riteniamo di dover criticare proviamo a dire anche a non fermarci a dire anche cosa secondo noi bisognerebbe fare e lo facciamo soprattutto nelle scuole e con i giovani noi in questo in questi 12 anni di vita abbiamo per esempio portato a Bruxelles un migliaio di insegnanti della provincia di Cuneo per fargli vedere uno che l'Europa esiste che questi palazzi ci sono davvero ma soprattutto per farli incontrare direttamente con quelli che ci governano da lassù e per poi tornare a casa e spiegare ai ragazzi io questa mattina per esempio ho fatto due assemblee in un liceo scientifico di Cuneo per raccontare l'attualità europea un po' le cose che ci siamo detti qua a dei ragazzi che alle prossime elezioni europee spero non facciano la fine di quello che è capitato nelle ultime dove meno del 50% ha votato per dire loro c'è un problema quindi di consapevolezza sì e anche di responsabilità cioè piantiamola lì di addossare tutte le responsabilità alla casta politica perché intanto quella casta politica l'abbiamo mandata noi andando o non andando a votare quindi anche questa è una scelta e soprattutto il non andare a votare a me quello che ha colpito molto e anche rattristato molto è che le più basse percentuali di votanti siano state quelle dei paesi dell'est cioè dei paesi che avevamo accolto a cui avevamo dato una chance di vivere una vita democratica che non vivevano da tanto tempo e mi verrebbe da dire ma è un po' cattivo ma lo dico lo stesso ci hanno tradito come ci stanno tradendo sul problema dell'immigrazione ma si ricordano che siamo loro sono stati accolti da noi con dei costi non indifferenti ci abbiamo anche ricavato degli utili per carità questo va detto però adesso che è il momento insieme non voi da soli di accogliere altri e provate un po' a farlo l'impegno deve essere condiviso anche qua assolutamente importantissimo proviamo nel nostro piccolo in quella splendida provincia che è la provincia di Cuneo a Cuneo è più facile perché abbiamo la frontiera e abbiamo una frontiera brutta in questi ultimi tempi abbiamo 20 miglia e quindi ci è più facile sono argomenti sentiti sentito perché noi eravamo abituati ad andare in Francia come venire a Torino certo adesso continuiamo ad andarci e però la frontiera è tornata e quando torna alle frontiere dicevo prima non c'è da stare allegri purtroppo il tempo a nostra disposizione questa sera è finito io ringrazio davvero tantissimo Franco Chitolina di essere stato qui in studio ringrazio molto Melelli per le sue risposte ai nostri telespettatori vi do appuntamento a martedì prossimo ricordandovi appunto che in studio ci sarà soltanto Melelli e quindi avremo una puntata dedicata interamente alla Previdenza sperando di darvi qualche chiarimento in più su l'Ape e quello che sarà l'anticipo pensionistico vi auguro una buona serata e quindi appuntamento a martedì prossimo buonasera grazie a tutti